Amici, prima delle vacanze, peccato perchè qua fa un po' ci siamo andati a buttare, noi ci siamo divertiti, ci fa piacere se qualcun altro si fa i funghi, e ragazzi mi piace davvero divertire tutti, io sono io, buttami che però ci arrivo sempre per primo eh, si sono bocciatotti eh, mamma mia, una tripletta, mamma mia, che tripletta, che tripletta ragazzi, la tripletta, nelle 7 e 14, anzi, ci sono bocoli, amici sempre qui, un po' da così un po' guardate, che azze qua c'è stato ad osso, un'ai che non mi sono, non ci siamo qua, la c'è stato ad osso, un po' di lezza, mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ma che popolone faccio faggetti e faggetti mamma mia la nascita grandi vicini in tutte le misure mamma che funghi oggi mamma che funghi Cesare mamma mia mamma mia ma che funghi che funghi ma che qualità questi funghi guarda mamma mia ci sono appena due ore sette oh e che sei unbino come c'è come c'è come c'è come c'è come c'è mamma che babbagiano sto bene buonissimo faccio con la prima anche la seconda ciao buongiorno ma se tu abbronzati che com'è i posti abbronzano guarda che belli mamma mia una bella tricoletta ragazzi guarda loro guarda qua di alto c'è guarda qua di alto c'è guarda che bello aspettavo che sensazione ragazzi dal mare alla montagna dalla montagna al mare mamma mia Luca che stiamo combinando oggi super carico grande buona giornata amici l'ho guarda l'altro mondo solo in questi faggi si possono trovare delle magnifiche sorprese ragazzi qua sono cattivi i funghi crescono con la rabbia mamma mia mamma mia mamma mia wow wow che sarebbe che sarebbe mamma mia mamma mia come sono si su fungo guarda non è l'altro che è su fungo wow mamma un chilo tutti e due ragazzi mamma mia un bel topico un bel un bel ecco un bel ecco 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 l'amici un po' di silenzio perché non ci saranno un po' di silenzio un po' di silenzio che mi sono diventerò credo che tu usqui questo interessante ragazzi Umberto che si prende i funghi come sembra ma che qualità questi due li abbiamo trovati l'altra volta e questi sono piccoli amici sempre nell'elbetta ci sono belle bomboniere questo scende fino a giù mamma mia ma che sarà mai qua adesso qui ci sei fatto grande papà oggi ti faccio dei bomboni i bomboni i bomboni come si ma sono i pedi dei altri olha ma che bomboni sobrano bomboni oi oi si atto a o a 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